Ciao, oggi siamo qui con l'ingegnere Paolo Savoia, un grande tecnico che stimo moltissimo e nonché anche un amico, con cui parleremo dell'accumulo nelle pompe di calore, un tema fondamentale a mio avviso per avere risparmi in bolletta, per avere massime efficienze, per far durare di più la pompa di calore nel tempo e per tanti tanti altri motivi. Musica Se ancora non mi conosci, beh, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, trasformando la loro casa in 100% elettrica, cioè togliendo il contatore e utilizzando una pompa di calore. Tutto questo lo faccio con una rete di installatori partner Sigilio Sicuro. Se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, vai nel link qui sotto, che trovi sotto il video. Oggi presento l'ingegnera Savoia, un tecnico, un ingegnere termotecnico, che ha scritto tra l'altro un libro che invito a leggere, perché è veramente una Bibbia per chi vuole progettare o conoscere di più gli impianti termici. È scritto proprio con la consapevolezza di chi progetta, realizza e poi verifica le cose. Infatti è per questo che do tutta la mia stima a Paolo, perché lui è un tecnico particolare. Non si limita a progettare, ma è talmente curioso e vuole conoscere talmente tanto la materia che va a verificare poi cosa succede nell'impianto. È come pensare di andare via un'automobile e impostare la velocità in curva senza avere un contachilometri sul cruscotto. Se tu non sai a che velocità ti trovi, come puoi impostare nel miglior dei modi la curva ed essere più veloce ed efficiente? Ecco, Paolo monitora i propri impianti. Ci siamo conosciuti anche grazie a Foxbox, la centralina per il monitoraggio delle pompe di calore, ma già lui lo faceva anni prima perché è un tema fondamentale. Sentiamo Paolo cosa ci dice sul tema dell'importanza di sapere cosa succede nell'impianto dopo averlo realizzato. Ciao Samuele, buongiorno, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando sui tuoi social. Sì, hai profondamente ragione. È fondamentale monitorare gli impianti, ma è fondamentale per due semplici motivi. Il primo, da dove ho iniziato? Io ho iniziato in realtà a monitorare gli impianti per capire e risolvere i problemi degli impianti. Nel momento in cui un impianto non funziona, andare a rilevare istantaneamente cosa succede non conta assolutamente nulla. A meno che non abbia l'errore bloccante sulla pompa di calore, il resto in realtà può essere qualcosa che deve essere forzatamente visualizzato nel tempo. Una volta che ho imparato parecchio, parecchio, risolvendo problemi sui miei impianti e anche su altri impianti, il monitoraggio lo utilizzo per confermare le prestazioni degli impianti, per ottimizzare gli impianti. Queste sono le altre due fondamentali operazioni che si possono fare con gli impianti. Certo, non basta il monitoraggio, servono le competenze, abbinando assieme però con sempre il monitoraggio puoi ottenere veramente tanto del tuo impianto. E con l'impianto non è solo il generatore, ma in realtà è l'impianto, quello che chiamiamo il sistema edificio-impianto. Assolutamente. Esatto, condivido. Allora colgo l'occasione per entrare nel vivo del tema di oggi, cioè l'accumulo. Oggi vediamo con Paolo, che ha messo insieme una serie di numeri molto interessanti, su quanto l'accumulo possa aiutare, sì, no, forse, lo vediamo insieme a lui, una pompa di calore e un sistema edificio-impianto. Vedremo le due macro-categorie. Una prima parte, l'accumulo termico, come accumulare energia termica all'interno del sistema. E la seconda parte, invece, accumulare energia elettrica, quindi quanto il fotovoltaico con l'accumulo ci può aiutare. Ecco, divideremo in due video e speriamo di essere d'aiuto per tutte quelle famiglie che vogliono scoprire di più come funziona e fare quel passo oltre di conoscenza e di divulgazione che ci preme così tanto. Allora, inizio con la prima domanda. Ecco, visto che noi ci conosciamo, io ho una grande stima nei tuoi confronti, ma non perché siamo sempre d'accordo su alcuni temi, perché a volte non siamo d'accordo, ma appunto perché ci mettiamo al naso e vogliamo capirne la verità. Allora, accumulare energia con l'aria. Quindi, se utilizzo la casa, quindi l'ambiente, l'aria all'interno delle varie stanze, come batteria termica, è conveniente oppure no? Cosa mi racconti su questo tema? Allora, faccio un passo indietro, perdonami, Samuele. È conveniente, bisogna sempre distinguere se energeticamente ed economicamente, e i due temi non sono spesso correlati, ok? Fotovoltaico da una parte, ma anche la sua è a pompa di calore. La pompa di calore ha rendimenti, ciò qui, e quindi energeticamente ed anche economicamente, risultati diversi in funzione delle temperature esterne mandate, e quant'altro, questo lo sappiamo benissimo. Per cui bisognerebbe sempre partire, distinguendo bene, energeticamente ha vantaggio accumulare, economicamente ha vantaggio accumulare. Questa sarebbe la prima risposta da dare. Ora, in fisica, mediamente accumulare, ok? Ci si perde sempre un pochino, ok? Può essere un rendimento di un accumulo, di trasformazione, anche banalmente elettrica, del 96%, abbiamo sempre una perdita del 4%, quindi sarebbe fondamentale energeticamente utilizzare l'energia quando disponibile. Se partiamo ad esempio del gesto di impianto fotovoltaico, ma anche di riscaldamento, anche di acqua calda sanitaria e tutto quel che ne conviene. Oggigiorno però, con la tecnologia che abbiamo, quindi pompe di calore, anche senza impianto fotovoltaico, o a maggior ragione, con l'impianto fotovoltaico, dobbiamo garantire che energeticamente rimanga conveniente ed economicamente sia sempre conveniente, oltre ad essere, come dicevi tu, dovuto spesso, perché basti anche pensare, ha solo la pompa di calore per l'acqua calda sanitaria, un accumulo lo dobbiamo fare, quello dell'acqua sanitaria, appunto. Una pompa di calore, comunque, non solo per l'acqua calda sanitaria, ma per entrambi gli utilizzi. Mi chiedevi, accumulare nell'aria? È possibile? È conveniente? Io ho qualche dubbio, nel senso, intanto vediamo cosa vuol dire accumulare nell'aria, vuol dire alzare, ad esempio, il set point di giorno, durante la produzione fotovoltaica, o comunque quando le condizioni esterne sono migliorative, ad esempio d'inverno, rispetto alle condizioni notturne, perché la temperatura dell'aria è maggiore. Aumentare il set point è conveniente? Allora, innanzitutto bisogna capire il fenomeno fisico che avviene, quindi l'aria, come un materiale, dobbiamo vederlo anche se non lo tocchiamo, è comunque un materiale che ha poco calore specifico, quindi riesce ad accumulare poco calore. Quindi cosa succede? Se noi diamo energia, si alza velocemente, aumenta velocemente di temperatura. Aumentando di temperatura, aumentiamo anche le relative dispersioni. Un'abitazione disperde di più nel momento in cui è maggiore il salto tra la temperatura interna e quella esterna. Più caldo in casa, più saranno le dispersioni. Questo, in teoria, in maniera, diciamo, così statica. Poi ci sono degli effetti dinamici che fanno sì che nelle abitazioni non aumenti subito velocemente la temperatura dell'aria, ok? Ma un po' di calore venga accumulato negli primi strati superficiali di pavimenti, soffitti e pareti. Quindi qui è un pochino importante, come, diciamo così, a livello edile, mettere sempre, avere sempre un po' di elementi capacitativi che avvolgono l'aria, in maniera tale che possano questi accumulare un po' più di calore, di energia, senza trasformarla tutta nell'aria. Però, ecco, la strategia di accumulare un po' di calore nell'aria è sì conveniente, ma non lo possiamo fare in maniera energetica molto importante, perché basta poco calore per aumentare la temperatura di uno o due gradi e quindi poco calore, poca energia e noi riusciamo a sfruttare in maniera potente la parte, diciamo così, di calore gratuito o comunque generato a condizioni favorevoli prodotto dall'impianto, dalla pompa di calore. E quindi, ricapitolando, riscaldare l'aria, si fa presto a riscaldarla, ma, d'altro canto, avendo questa bassa capacità, si raffredda anche velocemente. In più, più riscaldo l'ambiente dentro e più l'edificio disperde, perché ho più calore all'interno e quindi più dopo questo calore passa attraverso il pareti verso l'esterno. Quindi c'ha anche questo effetto boomerang che non è del tutto trascurabile. Poi, ultima cosa, anche non posso scaldare all'infinito l'aria all'interno, perché devo anche viverci all'interno, non posso arrivare a 40 gradi dentro casa, altrimenti mi faccio la sauna. Assolutamente. C'è da dire che è spesso utilizzata, questo stratagemma, l'utilizzo spesso anch'io, ma non solo in inverno, anche in estate. Perché se in estate ci siamo favoriti al fotovoltaico più che dalle temperature esterne. Parliamo del riscaldamento che è più semplice. Aumentare un po' il set point interno, comunque aiuta parecchio, soprattutto dove, soprattutto laddove è un edificio con alta costante di tempo. Ne parlo bene nel mio libro. Alta costante di tempo, la costante di tempo, diciamo così, è un numero riassuntivo che mi dà il rapporto di un'indicazione di quanto l'edificio si raffreddi in maniera col tempo, di quanto poco tanto si raffreddi l'edificio col tempo all'invariare delle condizioni esterne. In questo modo, sì, ho molte abitazioni monitorate e riesco tranquillamente, concentrando sei ore al giorno di riscaldamento ad una sovratemperatura di un grado, di mantenere fino alle successive diciotto ore la temperatura nell'intorno di quel set point meno al massimo un grado, con impianti di ventilazione meccanica, quindi con la qualità dell'aria interna, perché è semplice mantenere la temperatura con le finestre chiuse senza dare il cambio d'aria. Però questo, diciamo così, è l'efficienza che va a discapito della salubrità e della qualità del vivere, oltre che dell'aria, e quindi non lo considero nemmeno. Quindi è, a mio avviso, un ottimo, ottimo modo per sfruttare le pompe di calore, fare aumentare la temperatura diurna, spegnendo l'impianto durante le ore più fredde, ma solo se abbiamo una costante di tempo molto elevata. Ok, ok. E dicevi che tu hai fatto un foglio di calcolo che determina proprio in termini numerici cosa significa riscaldare. Tra l'altro lo metteremo a disposizione, troverai il link qui sotto nel video. Abbiamo deciso di mettere a disposizione di regalarlo attraverso il blog che è una fonte di conoscenza assoluta sugli impianti, il blog di Paolo, anche perché la nostra missione è quella di divulgare, quindi di divulgare il verbo delle pompe di calore affinché più persone possibili ne conoscano i vantaggi e le sappiano usare, ecco. Sì, ho fatto questo semplice foglio di calcolo dove in realtà vado a confrontare con qualche numeretto, che ha bisogno di essere di qualche numeretto, quello che è percentualmente la possibilità di accumulare energia su diverse fonti, aria, acqua, vedremo poi, negli impianti. Non è ovviamente una Bibbia, sono numeri semplici, però almeno iniziamo a ragionare con dei numeri reali, fisici, dati dalla fisica, perché spesso, io dico sempre, sì, le parole van bene, ma sui numeri non si discute quasi mai. Quindi avere la parola, il verbo supportato dal numero è fondamentale per chi come noi, insomma, fa un mestiere dove i numeri... Abbiamo fatto già un accenno al secondo tema, seconda possibilità di accumulare energia, cioè quella di usare la struttura della casa, quindi la parte più materiale della casa, tipo quella che ha più inerzia, quindi il mattone, il calcestruzzo, l'intonaco, insomma, il massetto. Cosa possiamo raccontare, invece, su questa possibilità di accumulare energia nella struttura della casa, e non solo sotto forma di aria? Sì, allora, l'altra possibilità, come giustamente dicevi, è che si riallaccia un po' al discorso degli impianti radianti. Accumulare energia nell'aria è semplice e lo può fare, ad esempio, anche un impianto ad aria, che è un fan coil, quello non può accumulare energia nelle strutture, accumulare energia nell'aria, come abbiamo detto, nei primi millimetri, ok, degli strati superficiali. Se invece passiamo ad un escadamento radiante inerziale, ok, anche se inerziale, ma il concetto di inerzia, gli impianti radianti non piace mai, perché dipende dalla temperatura, di esercizio e quant'altro. Un impianto radiante con spessore, ok, quindi fatto tipicamente con dei massetti o che sia a parete sotto in tonaco o a soffitto sotto in tonaco. Ecco, io sono innamorato del radiante, mi piace un sacco, l'ho, penso, calcolato, l'ho fatto installare in tutti i modi, anche a parete, che è, secondo me, bellissimo ed economicissimo, ma anche a soffitto. Nel momento in cui noi abbiamo la possibilità di cedere calore prima al componente di inizio in cui è negata la tubazione, facciamo che sia pavimento, è il caso classico, massetto, ok, ma nulla cambia con parete o soffitto. Cosa succede fisicamente? Che qui aumenta la temperatura di quello strato, il calore va in funzione della resistenza termica che incontra, per cui se ha un isolante verso la parte esterna, ovviamente tenterà ad andare molto di più verso l'interno. Prima accumulo calore, quando la temperatura superficiale diventa maggiore della temperatura dell'aria, il radiante inizia ad aumentare la temperatura dell'aria che ho all'interno. Ma in questo modo ho già accumulato calore nel massetto. Infatti nel momento in cui si spegne il termostato, si chiudono le testine, il massetto ancora cade e quindi continua a rilasciare calore. Ecco, questa può essere una strategia, a volte uno svantaggio, alcuni tipologici di impianti, a volte un vantaggio. È una caratteristica, io dico sempre, l'inerzia, tra virgolette inerzia, inteso come capacità di accumulare calore, è una caratteristica che uno la può sfruttare. Ad esempio, io ho abbinato, tanto per dirti anche abitazioni a passive house, quindi il top della performance energetica, gli ho abbinato porzioni di impianto radiante a pavimento ad alta inerzia. E mi trovo benissimo, ma l'ho fatta sfruttare a modo bene, anche qui monitorando gli impianti e quant'altro. Quindi è fondamentale e può essere un'ottima strategia in questo caso, andare ad aumentare l'inerzia, ad aumentare, scusami, la temperatura di alcune porzioni del radiante, ma in realtà ad accumulare energia, spegnere l'impianto eventualmente nelle ore in cui o per caso ho troppa produzione di acqua calda sanitaria, quindi non sento disconforto, o per tutta la notte, anche qui in funzione della costante di tempo, come dicevamo, per ottimizzare sempre quello che è il rendimento della pompa di calore, facendolo utilizzare ad esempio durante le ore notturne. Si può accumulare molta più energia sul radiante o in generale nelle strutture rispetto all'aria e una differenza che ci può essere è che sto aumentando in questo caso comunque le dispersioni, perché vado ad aumentare la temperatura di un massetto e questa quindi andrà ad aumentare lo scambio termico verso ad esempio se sono contro terra verso il terreno, per cui bisogna sempre anche qui un attimino andare a bilanciare. La cosa però come accennavo qui un pochino più difficile è andare a fare la giusta ottimizzazione dell'accumulo. Mando l'acqua a temperatura maggiore o allungo le ore di funzionamento se devo dare più energia devo agire su tutte e due. Spesso termotecnicamente si parla solo di potenza ma in realtà io gli impianti li considero e ne parlo sempre per energia. Posso agire su entrambi i fattori. Certo che con le pompe di calore se io per riscaldare un'abitazione ben isolata diciamo posso utilizzare tipicamente un impianto per otto ore non vado ad accumulare energia aumentando la temperatura di mandata potrei perderne di prestazione aumento le ore di funzionamento mettendole magari agli estremi del range che avevo individuato. Questo può essere comunque sia un vantaggio accumulo energia eventualmente prodotto in pianto fotovoltaico o meno l'accumulo e questa mi rimane ok l'ho prodotta con temperature esterne maggiore questa mi rimane e non viene prodotta durante le temperature durante le ore notturne ad esempio dove le temperature sono esterne quindi i rendimenti sono minore qui bisogna sempre cercare un attimino una sorta di compromesso le regolazioni aiutano tantissimo in fase progettuale ma lo dico lo scrivo sempre gli edifici spesso la fisica scusami le norme e i calcoli fanno fatica a conoscerli anche perché di mezzo c'è sempre l'utente ok con i comportamenti suoi per cui è importante che in questo caso andare a monitorare gli impianti io ho per dirti un edificio in cui ci siamo sbizzarriti c'era il costruttore che mi seguiva abbiamo messo sonde sotto in tonaco sotto in tonaco nella parte radiante sotto in tonaco dove non c'è radiante a pavimento a parete e quant'altro e stiamo vendendo in realtà anche in estate un ottimo un ottimo comportamento ok un ottimo comportamento del raffrescamento questo è quello del soffitto radiante e andiamo a calibrare l'accensione dell'impianto scusami di riscaldamento di raffrescamento proprio per ottimizzare il rendimento limitando sempre più anno dopo anno le temperature di esercizio della pompa di calore sì perché non è così banale come il fotovoltaico cioè nel senso fotovoltaico c'è energia accumulo appunto ma qui il tema è un po' più complesso e bisogna metterci la testa perché accumulo quando è più conveniente economicamente come hai detto tu all'inizio oppure quando le prestazioni della pompa di calore sono più elevate quindi consuma meno paradossalmente ecco bisogna trovare il giusto compromesso e il giusto equilibrio tra i due temi fondamentali e hai già iniziato con un altro argomento abbiamo visto accumulare energia nell'aria nelle strutture adesso passiamo all'impianto quindi accumulare energia nell'acqua dell'impianto distinguendo naturalmente i due macro temi cioè acqua tecnica quella per riscaldamento o raffrescamento che gira nell'impianto di casa e l'acqua calda sanitaria partiamo quindi dall'acqua tecnica rispetto a quello che abbiamo visto prima le strutture cosa ci racconti sull'accumulo nell'acqua tecnica tra l'altro una parentesi Paolo ha scritto un eccellente articolo nel suo blog che trovate sempre qui sotto dove tratta questi temi e ci sono anche i numeri quindi per i più appassionati per i più curiosi che vogliono scoprire anche i numeri li ritrovate allora acqua tecnica accumuliamo lì cosa succede? Allora lasciamo perdere tutto il discorso del motivo per cui si mette l'accumulo tecnico quello a parte concentriamoci sulla parte energetica di accumulo ora qui ti dico la mia che non è necessariamente quella giusta rispetto all'acqua sanitaria abbiamo una sorta di vantaggio con l'accumulo tecnico perché dovessimo accumulare acqua a temperatura maggiore ad esempio abbiamo una sovrapproduzione fotovoltaica spesso si fa una cosa quasi banale ormai di default quasi tutte le pompe di calore ho un esuppo di protezione fotovoltaica la pompa di calore mi va a caricare l'inerziale a una temperatura x gradi maggiore rispetto a quella di default perfetto in questo caso tutti i bollitori come qualsiasi cosa come qualsiasi componente edilizio disperdono l'energia quando ho un salto termico tra l'acqua in questo caso l'interno ebollitore e la temperatura dell'ambiente c'è una dispersione ecco questo è un tema che anche qui ho trattato a fondo nel mio libro perché monitorando ho capito che ci sono degli enormi problemi sugli accumuli soprattutto sanitari perché soprattutto sanitari perché dal punto di vista dell'accumulo tecnico dell'acqua tecnica abbiamo comunque sia una sorta di come possiamo chiamarla di tempo di utilizzo ridotto nel momento in cui io vado ad accumulare acqua tecnica ho 200 litri di acqua tecnica ho una portata della pompa di calore ad esempio che è di faccio i numeri semplici 800 litri ora ok in un quarto d'ora quel bollitore lì l'ho già rimescolato completamente quindi le dispersioni in un quarto d'ora di quel extra che abbiamo detto prima extra salto termico aggiuntivo sono poche ok perché le dispersioni non vanno solo di numero vanno sempre con il tempo anche quella è sempre in energia quindi è un dato istantaneo moltiplicato per il tempo quindi se disperde un bollitore per dire ti disperde ti trasparo lì 45 watt con 25 gradi di salto termico quindi 45 gradi bollitore inerziale scusami e 20 l'ambiente nel momento in cui lo porto a 55 per caricarlo di energia la dispersione sarà sì maggiore se prima ho detto 45 magari sarà 55 watt però sarà molto limitata nel tempo ok perché l'ho utilizzato 15 minuti ok ho approfittato per 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 quell'accumulo di energia ok poi me lo sono scaricato velocemente facciamo che sia anche un'ora non è un enorme problema è un'ora su 24 di un accumulo che ho portato a qualche grado in più per contro però c'è il fatto che la pompa di calore lavora a temperature superiori quindi con cioppi inferiori e questo vale per tutte le macchine frigorifere quindi che qui bisogna sempre a mio avviso andare a calibrare bene bene quando andare a sovradimensionare eventualmente l'accumulo in questo caso quando si sovradimensiona va iperisolato perché magari può rimanere caldo per più tempo e quindi magari se rimane caldo per 2 3 ore di più è conveniente isolarlo oppure se non utilizzare questa funzione e lasciare andare a produrre la pompa di calore alla temperatura che prima avevamo ipotizzato 45 gradi tenere l'accumulo a 45 gradi senza andare a fare una sovratemperatura dell'accumulo anche nel caso in cui ci sia un eccesso di produzione fotovoltaica chiaro chiaro bella anche non l'avevo mai vista sul discorso del tempo che l'accumulo tecnico anche se lo surriscaldo disperde poco perché nel poco tempo poi io lo utilizzo invece il bollitore sanitario rimane lì per ore e ore finché non mi faccio la doccia finché non utilizzo l'acqua calda sanitaria e quindi disperde nella giornata naturalmente molto di più bello siccome siamo andati un po' lunghi Paolo facciamo una seconda parte dove andiamo a vedere l'accumulo sanitario e l'accumulo fotovoltaico quindi intanto guarda ti ringrazio per la tua passione che ci travolge e ci racconti per filo per segno tutta la tua esperienza e ci vediamo nel prossimo video nella seconda parte alla prossima grazie a te alla prossima puntano grazie a tutti